Grazie della linea Giuseppe, buongiorno, buon pomeriggio ovviamente ai nostri telespettatori. Siamo a Pescara, al porto turistico Marina di Pescara, per parlare del ferragosto sicuro dell'operazione messa in campo ogni anno dalla direzione marittima Abruzzo-Molise e isole Tremiti di Pescara. A tal proposito saluto e ringrazio il tenente di Vascello Allegra a Gamennone, capo sezione relazioni esterne proprio della direzione marittima di Pescara. Buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito. Allora tenente possiamo dire che questi sono i giorni di maggior lavoro per voi ferragosto, non ci sono vacanze per gli operatori della direzione marittima di Pescara, questi sono i giorni in cui le nostre spiagge e il nostro mare vede il tutto esaurito. Certo, la guardia costiera a Pescara come in tutta Italia, lavora alle cremente in tutta la stagione, quindi da giugno a settembre, ma ovviamente con l'intensificarsi dei numeri sulle spiagge e in mare si deve intensificare anche il supporto dei nostri operatori. Quindi noi faremo sicuramente un dispositivo rafforzato delle attività operative, come diceva, in tutto il territorio di competenza che nel nostro caso comprende l'Abruzzo, il Molise e le Isole Tremiti. Poi avete competenza da Martinsicuro a Termoli e come diceva Isole Tremiti un tratto di costa sicuramente non semplice da controllare. Parliamo un attimo anche degli uomini che la direzione marittima ha messo in campo, uomini e mezzi in queste settimane, ci saranno controlli sia in mare ma anche a terra? Certo, tutti gli uffici dipendenti saranno impegnati in queste attività di prevenzione e controllo, quindi in tutto il nostro territorio avremo circa 200 unità personale che sarà suddiviso in vari turni, nelle centrali operative che sono aperte 24 ore su 24, nelle pattuglie a terra che quindi pattuglieranno le coste e i litorali e utilizzeremo le nostre 14 unità navali che saranno deputate al controllo dello specchio acqueo. A tutto ciò non possiamo non fare riferimento anche al nostro mezzo di soccorso, all'elicottero della Guardia Costiera che sarà pronto a decollare in qualsiasi momento qualora ci fossero delle situazioni di emergenza. Alle nostre spalle vediamo una delle motovedette della Capitaneria di Pescara, ci sono anche dei militari a bordo, insomma il controllo del mare, il vostro pane quotidiano, ovviamente voi avete anche competenza sul settore pesca? Sì, noi il fatto di controllare i diportisti e i bagnanti in questo periodo non fa passare in secondo piano tutte le varie attività che ci competono, quindi anche la pesca verrà fatto, stiamo facendo in questi giorni un'attività di contrasto alla pesca abusiva perché sappiamo che con l'aumento dei turisti aumentano anche le richieste di pescato sulle nostre tavole e quindi questo non deve fare mai abbassare la guardia anche in questo settore. Anche le nostre competenze si allargano anche alla tutela ambientale che è un tema molto caldo quando i turisti diventano più numerosi. Non dimentichiamo che nel nostro territorio abbiamo ben due aree marine protette, a Torre del Cerrano e alle Isole Tremiti. Sono dei patrimoni, della ricchezza, dei tesori che noi dobbiamo conservare e a cui dobbiamo versare il nostro maggior controllo e la maggiore attenzione. Comandante, lei parlava della tutela ambientale, la bella notizia di quest'anno lo dicono i dati Arta che il mare della costa abruzzese e anche di quella molisane è un mare pulito, mai come quest'anno probabilmente. Certo. Possiamo dire che avete portato a termine negli ultimi mesi anche delle campagne proprio come direzione marittima di Pescara, ma campagne nazionali per la tutela marina proprio. Plastic No Free ricordo qualcosa del genere nei mesi scorsi, giusto? Assolutamente il nostro impegno a tutela dell'ambiente marino è costante. Noi lavoriamo in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente nel portare avanti queste campagne di sensibilizzazione dell'utenza del mare. Ricordava la campagna Plastic Free dove noi abbiamo speso le nostre energie e i nostri mezzi proprio per far capire quali sono i danni che i cattivi comportamenti causano all'ecosistema marino. In quest'anno l'ultima campagna, sempre in collaborazione col Ministero dell'Ambiente, si chiama hashtag buttali bene e si riferisce ai guanti e alle mascherine che non vanno gettate a caso in mare o a terra ma vanno conferiti nella raccolta indifferenziata in maniera corretta. Lei ha introdotto proprio il discorso relativo alle mascherine, ai guanti, ovviamente parliamo dell'emergenza sanitaria perché questa è un'estate particolare e anche la Guardia Costiera ha il compito di controllare quello che accade sulle spiagge relativamente al distanziamento sociale. Insomma si parla di assembramenti negli stabilimenti di qualche problema che c'è stato a livello nazionale, voi ovviamente siete molto vigili, vogliamo anche lanciare un messaggio a beneficio anche dei nostri telespettatori dell'importanza proprio dell'uso della mascherina, del distanziamento sociale e di tutte quelle che sono le prescrizioni sanitarie. Certo, la nostra presenza sulle spiagge potrebbe essere anche un deterrente in questo senso, non è una materia di nostra precisa competenza ma ovviamente qualora dovessimo riscontrare delle anomalie o una mancanza di rispetto di queste regole saremo noi i primi ad intervenire e a far presenti queste problematiche alle autorità competenti. Tornando invece all'estate in generale, quali sono, se ci può fare un piccolo elenco, quelle trasgressioni, quei comportamenti poco corretti che spesso si vedono sulle nostre spiagge? Allora, dobbiamo riscontrare in maniera positiva che negli ultimi anni sono diminuiti sensibilmente gli incidenti in mare, quindi questo vuol dire che anche coloro che affrontano il mare rispettano di più le regole, probabilmente un po' aiutati anche dalle nostre campagne di prevenzione ma anche una maggiore consapevolezza dei rischi che si corrono in mare. Noi consigliamo sempre, anzi esortiamo tutti i bagnanti, turisti, i diportisti a rispettare le norme, le norme di buon senso, le norme di buona educazione. Abbiamo sulle nostre coste il servizio di salvamento, quindi qualora ci fossero delle problematiche inerenti sul posto di rivolgersi direttamente ai bagnini. Non fare mai il bagno quando c'è la bandiera rossa, anche quando effettivamente noi in quel momento non capiamo quali sono le criticità. Fidiamoci delle regole che ci sono e che sono vigenti. Coloro che vogliono andare per mare devono assolutamente controllare le condizioni meteomarine e in caso di dubbio possono contattare tutte le sale operative della Guardia Costiera che sono pronte a rispondere a qualunque tipo di richiesta e a fornire tutte le informazioni necessarie. Non dimentichiamoci che per andare in mare con le unità a motore tutti hanno bisogno di dotazioni di sicurezza, quindi verifichiamo che le dotazioni siano funzionanti e numero adeguato agli occupanti delle unità. Quindi insomma cerchiamo di essere collaborativi con le forze di polizia ma di utilizzare anche il buonsenso. Tenente, ricordiamo anche il numero di emergenza, il 1530 attivo 24 ore su 24. Certo, questo ovviamente è a servizio di tutta la cittadinanza e il numero, quello che noi chiamiamo il numero blu, 1530, è un numero gratuito raggiungibile da rete fissa o da cellulare e chiamando questo numero si è messi in contatto con la sala operativa più vicina al posto in cui si sta chiamando. Questo per fornirci la possibilità di dare un soccorso immediato e più consono all'emergenza che si sta creando. Prima di salutarci un paio di domande ancora, comandante. La prima riguarda proprio il pienone, ne parlavamo all'inizio di questo collegamento, il pienone previsto in questa settimana di ferragosto. Una bella notizia dopo quanto accaduto nei mesi scorsi si sta riscoprendo il mare, un mare sicuro. Sì, noi abbiamo notizie in merito, verifichiamo una costante presenza di turisti sulle nostre coste, anche sicuramente considerando il fatto che i viaggi sono limitati all'estero, ma soprattutto perché il nostro mare si sta riscoprendo, come diceva prima, un mare pulito, un mare accogliente. L'attualità delle ultime ore è perché, ne parlavamo prima, l'emergenza sanitaria è ancora in atto e proprio in queste ultime ore ci sono diversi pescaresi, diversi turisti abruzzesi con le loro imbarcazioni di ritorno dalla Croazia, ma non solo, che si trovano nelle isole Tremidi e che comunque stanno raggiungendo anche il porto, il marina di Pescara. Proprio in merito a quelle che sono le prescrizioni sanitarie che, per esempio, sono adottate negli aeroporti, nei porti e qual è la situazione, insomma, qual è il vostro compito di raccordo ovviamente con le locali prefetture? Nei nostri porti non abbiamo collegamenti diretti con la Croazia, collegamenti, diciamo, traghetti, per cui non abbiamo le stesse problematiche che potrebbero rivelarsi negli aeroporti. Per quanto riguarda le singole unità da diporto che rientrano nei nostri porti, nel nostro territorio, noi ci atterremo a tutte le disposizioni delle locali prefetture in tema di controllo o di collaborazione proprio con loro. Ebbene, dunque questo per quanto riguarda l'operazione Mare Sicuro della Direzione Marittima Bruzzo Molise delle isole Tremiti. Io ringrazio sentitamente l'ufficio comando della Direzione Marittima Bruzzo Molise per averci ovviamente permesso questo collegamento in diretta con il tenente di Vascello Allegra Agamennone, capo sezione Relazioni Esterne proprio della Direzione Marittima di Pescara. Grazie per aver accettato il nostro invito, buon lavoro. Grazie e buon Ferragosto a tutti i turisti.